Guarda, mi faccio già il tetto. Olè. Allora. Sto loggando ora, dopo un giorno che non logggo. Ci sono quanti? Ah. Non mi fa vedere quanti player, vabbè. Ci abbiamo ancora tutto. Che dovevamo fare? Raccogliere frammenti per finire qui. A quanto vedo è notte. Devo anche mettere una password segreta con i vicini qui, in modo che la urliamo appena ci vediamo. Qui c'è un mega albero. Ehi vicino! Vicino ci sei? Non è in casa. Inchiappacce però va che roba che si è fatta. Manco la seconda guerra mondiale, c'erano quelle trinceli. Allora, la vedo del loot, intanto. Però prima di andarlo a prenderlo. Prima di andarlo a prenderlo. Sentite l'italiano, perfetto. Andrei a vedere se sono online i tizi qui. Un arco e cinque frecce, buono. Anzi, sai cosa ti dico? Questa qua di legno non la riciclo e la metto sopra il tetto della mia casa. in modo da evitare che ci saltino sopra. Allora, ci buttiamo dentro questo, questo, questo. C'è qualcuno che sta spaccando. Sei tu vicino? 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 Vicino, sei tu? Ehi, la? Vicino? Non è il vicino. O forse è lui, ma si è nascosto comunque. Ok, l'ho messo giù. Anche se è brutta com'è la fame. Adesso è così, sono disidratato. No, fammi perla, c'avevo 300 litri d'acqua. Dove sono? Non c'è più acqua, vabbè. Qua c'è una casetta tipo tutta strana, guardala. Si sparano, così a caso. Ehi, la? C'è nessuno? Non c'è nessuno. Avventuriamoci. Probabilmente c'è anche qualcuno alle spalle. Ah, è un brutto posto questo. Uh, qua c'è un'altra. Loot. Piccone buono, dai. Ma come cazzo risalgo io da qui? Non penso, eh. Di essermi cacciato in una bella situazione. Un'altra torcia, meno male. Quale è il problema? Dai, non ci credo, è proprio qui esponata. No, merda. Fammi mangiare un paio di funghi, va. Ah, che palle. Grande Roman. Ehi! Che vita di merda, oi. Cazzo sono. Cazzo sono. Dai, sono caduto di tutte. Roman, sei un imbecille. Un cieco probabilmente riuscirebbe a farcela. Meglio di te. Vai, vai, stiamo salendo. Non so, manco più, dove so? Oddio, dove son finito? Oh, però, 46 frammenti, molto bene. Dai, dai, che usciamo prima o dopo. Eh, e ora? Dai, dai, queste, vedo, delle scale che portano su. Dove essere questa per forza, l'uscita. Dai, 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 ecco il sole. Mi sta dicendo che son pieno, eh? Non c'è più cibo, eh. Proprio tutto se lo son mangiati. Che c'è qua? Oh, c'è un letto. Letto ingranaggi. Adesso io. Ehi, sono sempre io. L'hanno ammazzato. Ah, ma non sono loro. Pezzi di merda. No, dai. Ero pieno di roba. Madonna, che sacchi di merda. Ah, ma non sono già. Grazie.